E allora, premio Anamosa, seconda del convegno, tre anni a confronto sul Miglio, sono in dieci al via, Uragan Rod, Warner Martellini, Usain Bolt, Antonio Di Nardo, Ulc di Girifarco, Biasolo Verde, Uro Forobo, HP, Giuseppe Pietro Maisto, Unirecetto, Roberto Vecchioni, Uveniamail, Alessandro Colasanti, Ultra D, Casei, Antonio Improda, in secondo, Universal, Fier, L, F, Gaetano Di Nardo, Unica degli olivi, Lucio Becchetti, Urticaria, Davide Di Stefano Pochi metri al punto dello stacco e nel lancio si avvantaggia Uveniamail, sopravvanzando in particolare Uragan Rod e Unirecetto, a largo si avvia svelto anche Ultra D, Casei Alla corda Uragan Rod, tanto c'è stata la rottura di Urticaria, Uragan Rod alla corda Uveniamail che attacca più all'esterno insiste Ultra D, Casei, attacca ancora Ultra D, Casei, sopravvanza Uveniamail che non ha ancora perfezionato il sorpasso di Uragan, poi tutto si completa e così, Ultra su Uvenia e poi Uragan Rod Sposta all'esterno Ufo Robo HP, mentre ha sbagliato improvvisamente Ultra D, Casei, Ufo Robo HP va sulla battistrada Uveniamail dopo 600 in 45 spiccioli Bocco alla penultima curva Uvenia e Ufo Robo nella scia di Ufo Robo Unirecetto, in corda sempre Uragan Rod, si è rimesso Ultra D, Casei in terza pariglia esterna, i primi 1800 metri in 1.2 scarso e ora siamo sulla retta opposta alle tribune con Uvenia in vantaggio Ufo Robo di rincalzo, Unirecetto all'argo, terza ruota costante per Ultra D, Casei, che è stato anticipato da Usain Bolt, mancano 500 metri alla conclusione Con Uvenia in vantaggio, Ufo Robo di rincalzo, allargo Unirecetto, allargo anche Usain Bolt che costringe in terza Ultra D, Casei, a contatto anche Universal Riff Fear LF, siamo al termine della piegata conclusiva, Uvenia in vantaggio, poi Ufo Robo sbaglia Unirecetto, Uvenia su Ufo Robo Ufo Robo è stanco, è stanco e poi sbaglia anche Ultra D, Casei, interviene Universal Fear, intanto Uvenia in vantaggio, Ufo Robo che prova l'attacco Uvenia si difende, Ufo Robo attacca, Uvenia Mail prosegue in vantaggio in versione senza ferie posteriori, porta a compimento un percorso vincente davanti a Ufo Robo HP e Universal Fear LF, Uvenia Mail, Alessandro Colasanti, insalchi al training, i colori della scuderia Scaf 50 eccole qua le immagini, le battute conclusive, 2-3 sul mio cronometro, media intorno alle 1.17 Uvenia Mail e Alessandro Colasanti vincono davanti a Ufo Robo HP e Universal Fear LF Grazie a tutti